Noi non abbiamo rotto sulla federazione, non abbiamo rotto sul partito unico, non rompiamo sui gruppi. Noi abbiamo voglia di collaborare con tutti quelli che hanno a cuore la prospettiva riformista, ma siamo convinti che non ci siano elementi politici per rompere. Tant'è che a fronte di evidenti attacchi personali la nostra risposta è stata una risposta che definire zen è riduttiva. Io rimarco e rivendico il primato della politica. Io sono convinto che questo progetto serva al Paese, non serva a me, serva ai miei figli. Quindi il nostro ragionamento è porte spalancate, non vogliamo mettere barriere, non vogliamo dire di no. Non siamo quelli dei veti noi, noi vogliamo lavorare insieme. Se qualcun altro interrompe il lavoro comune si assumerà le proprie responsabilità.